Da Trapani a Pesaro, una città che non conoscevo, ma il primo impatto che ho avuto è stato favoloso, soprattutto nei confronti di questo palazzo che mi ospita, una delle prefetture più belle d'Italia. Ha esordito così questa mattina, di fronte alla vasta platea di giornalisti, il nuovo prefetto di Pesaro Urbino, Tommaso Ricciardi, insediatosi ieri nel Palazzo Ducale di Pesaro in Piazza del Popolo. Prima di lui Vittorio Lapolla, che dopo due anni di servizio a Pesaro è stato destinato ad alto incarico a Roma. Ricciardi ha voluto ringraziare pubblicamente il suo predecessore perché qui funziona tutto, ha dichiarato alla stampa un grazie val collega Lapolla per come mi ha fatto trovare la struttura. Nato a Caserta nel 1957, sposato con tre figli, Ricciardi, proviene dalla prefettura di Trapani. L'aureo in legge entra in amministrazione nell'ottobre del 1979, assegnato all'allora Direzione Generale della Protezione dei Servizi Antincendi. Dopo aver ricoperto una serie di prestigiosi incarichi, nel marzo 2019 il Consiglio dei Ministri lo nomina prefetto, destinandolo a svolgere le relative funzioni nella provincia di Trapani. Ora il nuovo incarico a Pesaro. Il primo impatto è stato meraviglioso, una bellissima città, la piazza che ospita il Palazzo Ducale è un, ho sempre detto sin dal primo momento, mi sembra una bomboniera. Dobbiamo cercare con tutte le nostre forze e con una sinergia tra le varie istituzioni, perché io amo lavorare molto di squadra, dobbiamo cercare di mettere queste attività, questi soggetti in condizioni di ripartire. Ovviamente la parte preponderante, la parte più importante la sta facendo il Governo, che ha licenziato finalmente il piano Ristori, e quindi fare in modo che queste persone possano ripartire con gli aiuti dello Stato e non incappare in problematiche che sono legate purtroppo a fenomeni di delinquenza, o meglio, più che delinquenza, criminalità, come estorsione, usura e quant'altro. La guardia va tenuta alta perché siamo memori dell'ultima, della precedente estate, che sì, è stata un'estate da liberi tutti, ma poi già a settembre abbiamo incominciato a pagare, purtroppo, lo scotto di questa eccessiva euforia. Vero è che rispetto all'estate scorsa siamo già messi meglio, perché il piano vaccinale sta andando molto bene, d'intesa con le forze dell'ordine, con le forze di polizia, ma anche con il sindaco. Abbiamo deciso di fare in modo che la guardia resti alta. A Pesaro lo stesso prefetto porterà avanti gli impegni del suo predecessore, come quello di aprire Palazzo Ducale alle visite di cittadini e turisti. Questa iniziativa che lui ha inaugurato sicuramente io la perseguirò, anche migliorandola, allargando magari la platea dei beneficiari di questo bellissimo palazzo, perché credo che a partire dai pesaresi tutti dobbiamo essere consapevoli delle ricchezze culturali, artistiche di questa provincia, di questo territorio. Quindi sicuramente continuerò in questo solco.